Cari amici di Cerasa News 24, oggi ci troviamo qui al Palazzetto dello Sport di San Costanzo in compagnia degli amici del Real San Costanzo. Tra poco vi spiegheremo perché. Sigla! Ben trovati con 4 minuti, nostro consueto appuntamento con le notizie, con gli approfondimenti e con gli appuntamenti della settimana, 31esima puntata edizione Summer. Oggi siamo in compagnia degli amici del Real San Costanzo. Qui a fianco a me ci sono Federico Baldarelli, allenatore della prima squadra e Francesco Serfilippi, presidente del Real San Costanzo. Ecco a loro chiediamo subito come sta andando la preparazione di questa nuova stagione. La preparazione sta andando bene, abbiamo iniziato il 16 agosto e in fretta e furia abbiamo preparato il primo impegno stagionale che è stato già venerdì scorso il 25 qui in casa, l'andata di Coppa Marche e prosegue chiaramente quotidianamente in questi giorni per preparare anche il ritorno che l'andata è stata fortunatamente vittoriosa per noi 3 a 2 e prepariamo il ritorno di venerdì prossimo a Dancona. Ecco, quali le aspettative per questa nuova stagione che si apre? Ma i riferimenti non sono moltissimi per poterti dire quali sono le aspettative. È chiaro che speriamo di fare un bel campionato, soprattutto di divertirci e di creare un gruppo che lavori bene, in armonia e che possa comunque fare qualcosa di positivo. Siamo diversi ragazzi nuovi, io stesso sono chiaramente nuovo, provengo dal settore giovanile e quindi non abbiamo obiettivi particolari ma andiamo avanti alla giornata cercando di lavorare bene. Ecco, a proposito dei giovani, so che c'è un progetto che è stato così elaborato insieme anche con l'OS San Costanzo, rivolto proprio ai giovani e ai giovanissimi. Di cosa si tratta? Esattamente, io diciamo provengo appunto da una formazione giovanile, da diversi anni di attività con il settore giovanile e in questa società abbiamo una scuola calcio 5 qualificata da due stagioni, anche se il settore giovanile esiste da quattro anni, però la scuola calcio 5 qualificata quindi, per la quale sono richieste alcune caratteristiche da parte della Federazione Italiana Gioco Calcio e abbiamo ottenuto riconoscimento già dalla stagione 2015-2016 e che poi è proseguita anche nella stagione 2016-2017. Quest'anno l'idea bella, innovativa secondo me è quella di comunque avviare questa collaborazione con gli amici della società di calcio 11 locale dell'OS San Costanzo, proprio perché non sono certo io il primo a dirlo, l'attività di calcio 5 è riconosciuta come decisamente propedeutica anche l'attività di calcio 11, ci sono studi a riguardo, ci sono testimonianze anche di calciatori molto bravi e famosi, prevalentemente magari di estrazione spagnola o comunque latinoamericana, fermo restando che chiaramente il primo obiettivo è l'obiettivo sociale, quello di poter permettere a ragazzi tutti del paese di svolgere attività sportiva qui. È un esperimento ma secondo me una proposta quindi davvero completa per tutti i nostri ragazzi, i nostri giovani e veniamo quindi a Francesco Sefilippi, Presidente, invece a te chiediamo qual è il calendario delle iniziative e quali i prossimi appuntamenti del campionato? Il prossimo appuntamento è venerdì abbiamo il ritorno di Coppa in Ancona a Pietra della Croce, al Palascherma e poi inizieremo le preparazioni con i giovanissimi allievi che inizieranno la stagione a metà di settembre con la relativa Coppa Marche per entrambe le categorie. Il campionato della prima squadra inizia l'8 settembre, non sappiamo ancora se in casa qui o fuori casa. In casa giochiamo alle ore 21.30 per chi fosse interessato a venire, abbiamo sposticipato di mezz'ora per dare la possibilità alle famiglie, alle persone, ai nostri tesserati giovani di poter riuscire ad esserci insomma con più tranquillità relativamente a un orario che comunque dopo cena e con i nostri giovanissimi allievi, con i nostri allievi e juniori giochiamo la domenica pomeriggio alle 6 in alternanza e faremo due squadre di giovanissimi in modo da poter utilizzare anche i nostri ragazzi più giovani. Ci sarà una squadra esordiente, una squadra pulcini che giocherà la domenica alle 3, perciò avremo un calendario di fine settimana abbastanza impegnativo insomma. Io spero di vedere sempre la tribuna piena e mi farebbe veramente molto piacere insomma. Ecco con questo appello quindi vi invitiamo a seguire questa fase e questi appuntamenti del Real San Costanzo ed ora passiamo invece alle notizie e gli appuntamenti della settimana. E siamo dunque agli appuntamenti della settimana e alle notizie, una di quelle che abbiamo trovato poi sul sito istituzionale del Comune di San Costanzo è l'iniziativa Mare per Tutti, l'11 settembre infatti ci sarà una escursione in barca gratuita e coloro che fossero interessati possono contattare direttamente agli uffici comunali per dare le proprie adesioni al numero 0721 95 12 41. Venendo invece agli appuntamenti della settimana, dopo alcune settimane davvero intense per il nostro territorio, ricordiamo che mercoledì 30 non ci sarà la Santa Messa a Cerasa per impegni del parroco, giovedì 31 ore 21 il pattinaggio nella pista polivalente di Cerasa, ultima serata della stagione e come sempre, sempre giovedì, l'adorazione eucaristica nella chiesa parrocchiale di Cerasa alle 20 e 30. Per oggi è tutto, vi ricordiamo di mettere il vostro mi piace nella nostra pagina Facebook, di condividere con i vostri amici questa puntata di 4 minuti e di iscrivervi al nostro nuovo canale YouTube dove potrete vedere le nostre puntate direttamente anche sulle vostre Smart TV. Per oggi è tutto, 4 minuti, torno alla prossima settimana, grazie per essere stati con noi.